Funziona la mente di uno psicopatico narcisista e quali danni lascia nelle sue vittime? Allora, devi tenere presente che la mente di uno psicopatico narcisista non funziona come quella delle persone che non sono narcisiste o psicopatiche, ma i narcisisti, ad esempio, hanno un delirio di onnipotenza, cioè pensano di essere superiore agli altri. Va bene ovviamente avere autostima fondamentalmente, ma il modo narcisista in modo teatrale, spesso istrionico, vuole apparire superiore agli altri, tra l'altro senza avere grandi risultati, perché questo è lo scoramento con la realtà, perché se uno è Bill Gates o Jeff Bezos, può dimostrare che finanziariamente è sicuramente superiore agli altri, ma se è il signor nessuno, comunque vuole apparire superiore agli altri. Il narcisista ha questo bisogno di essere apprezzato esageratamente. Un'altra cosa è che il narcisista non ha mai colpe, quando non è secondato diventa vittima dell'universo che ce l'ha con lui. Tutti gli altri sono persone, esseri inferiori, che non sono capaci di apprezzarlo. E crede di essere speciale, di avere qualcosa, di essere l'unto del Signore, ecco questo è, di essere l'unto del Signore. Il narcisista pretende sempre di essere ammirato o ammirata. Il comportamento del narcisista è spocchioso, egocentrico, invadente. Il narcisista passa gran parte del suo tempo a preoccuparsi di come gli altri lo vedono. Teme il giudizio, il giudizio è un qualcosa che lo flagella, diciamo. E quando entri in una relazione, purtroppo, il narcisista entra come una bomba atomica, entra come uno tsunami, fa danni. Vedremo quali danni fa. Certo, all'inizio può sembrare affascinante, potrai non darti di affetto, di attenzioni, ma è soltanto love bombing. In definitiva, lui vuole soltanto distruggere e vuole soltanto essere ammirato. La maschera prima o poi calerà, il velo del tempio calerà e, diciamo, il lupo che stava dietro all'agnello viene fuori. Il narcisista si sente nella sua mente autorizzato a fare tutto. Si sente autorizzato a fare anche delle cose in cui non avrebbe nessun diritto. Ha la falsa convinzione che le leggi e le regole vadano per gli altri, ma non per lui. A lui tutto deve essere dovuto. Nella mente del narcisista esiste questa convinzione che per lui tutto è dovuto. E questo è tutta la vita, tutto deve ruotare intorno a lui. Nella sua mente vige una specie di ditto che tutti gli altri dovrebbero rispettare le sue regole senza fiatare, senza battere ciglio. E un'altra caratteristica del narcisista è che non ha empatia, non riesce a cogliere quelle che sono le emozioni degli altri. O perlomeno le coglie superficialmente o finge di coglierle perché vuole ottenere delle cose dagli altri. Non fa nulla che non gli riporti un vantaggio, un controllo. Quando va bene, perché se è anche psicopatico, ti vuole pure distruggere, ti vuole pure annientare. Non è in sintonia con le emozioni degli altri. È invidioso. Molti narcisisti paragonano spesso la loro vita a quella della vita delle altre persone. E saranno invidiosi, saranno ansiosi di raggiungere il successo degli altri, di superare in qualche modo. Sono gelosi e invidiosi di invidia e la gelosia è, diciamo, una parte costante del narcisista. In più, il narcisista è arrogante. Ad esempio, tratta mali i subordinati, tratta in modo scortese, talvolta umilia le altre persone in modo arrogante, al bar, al cinema, manifesta proprio arroganza. L'arroganza esce da dentro. I narcisisti hanno anche delle fantasie di onnipotenza. Ecco, queste sono tutte caratteristiche della mente del narcisista. E nella sua mente il narcisista è anche cinico. Vede sempre, vuole sempre ottenere un vantaggio, ma non un vantaggio nel senso che aderghiamo la fetta di torta. No, lui deve ottenere qualcosa che gli altri non riescono a ottenere. E questo è un qualcosa che i narcisisti hanno sempre. Ovviamente ci sono tantissimi livelli di narcisismo, ovviamente. I livelli limite dello spettro sono persone che sono, diciamo, maligni, perversi, antisociali, psicopatici, nei quali c'è un deficit empatico totale, praticamente. Il narcisista, nella sua mente, è un abile manipolatore, lascia dei segni, quelli sono i segni che li lascia. E un abile manipolatore, in particolare, diciamo, scarica la colpa sugli altri, quindi fa sentire in colpa le altre persone, favorisce il senso di colpa, il rimpianto, il dubbio di se stessi, e favorisce, diciamo, tutta una serie di stati mentali negativi, che spesso le altre persone vanno a vivere. Perché la vittima, diciamo così, del narcisista perde piano piano la sua autonomia personale. La vittima del narcisista non si sente più in grado di poter decidere. Quali sono, diciamo, i danni, tra virgolette, che lascia? Beh, intanto molte persone mettono in dubbio il loro equilibrio mentale, perché il narcisista, ricordiamoci, lo psicopatico che fa gaslighting, cerca di farti sembrare pazza, folle, una persona che non sa gestire la sua vita. E quindi puoi mettere anche il dubbio, puoi iniziare a mettere il dubbio, mettere in dubbio te stessa, le tue sicurezze. Inizi a diffidare delle persone che ti erano vicine, le persone che ti volevano bene, che ti vogliono bene, magari persone che ti sono care, come ad esempio i tuoi amici, che il narcisista cerca in qualche modo di distruggere, ovviamente, perché ricordiamoci che i narcisisti hanno proprio questa volontà di voler distruggere le altre persone, di voler annientare gli altri. Quindi inizia a diffidare delle persone importanti della tua vita. Sei convinta o convinto che solo il narcisista possa prendersi cura di te e amarti, mentre tutti gli altri no, non vanno più bene. Ti senti spesso inutile, pensi di non valere niente, ti autosqualifichi perché il narcisista ti induce a fare questo, ti fa dubitare delle tue capacità, delle capacità di prendere decisioni giuste, per cui delegherai, tenderai a delegare al narcisista decisioni importanti nella tua vita. Non hai più i tuoi bisogni, sono i bisogni del narcisista, concedi al narcisista tutto ciò che vuole. Paghi un prezzo altissimo per avere una relazione con il narcisista, il prezzo che paghi è altissimo, perché tu vuoi ottenere il suo consenso e per ottenere il suo consenso devi essere totalmente prostrata e poi verrai spolpata senza ottenere niente. Ti vengono pensieri ossessivi di aver sbagliato, ti attribuisci difetti fisici che lui, difetti fisici, mentali, insomma, che lui sarà in grado di produrre, diciamo, nella tua mente. Quindi lo idealizzi, il narcisista diventa una divinità e pensi ossessivamente a come renderlo felice. Ecco, generalmente questo processo, diciamo, è un processo sottile, che avviene in modo subliminale, lentamente. La vittima, diciamo, manifesta angoscia, insicurezza, ma piano piano. Non è che avviene brutalmente, perché il narcisista sa manipolare e quindi ti genera tutti questi stati mentali negativi. Il gaslighting è qualcosa che avviene in modo sottile. I narcisisti fanno anche delle micromanipolazioni. Ecco, quindi, queste sono le cose. Quindi se tu inizi a percepire di avere questi stati, mandalo subito a fanculo, perché si tratta di un narcisista e quindi non devi entrare nel suo mondo perché ti distruggerà. Avere la consapevolezza, quindi ascolta tante volte questo video, cerca di capire, di avere la consapevolezza, perché soltanto attraverso la consapevolezza ti potrai veramente salvare, ti potrai veramente liberare da quello che è veramente la distruzione totale. Bene, se questo video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su Instagram, Massimo Teramasco ufficiale, su TikTok.